Stamane la notifica dell'ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura generale di Milano e poco dopo Roberto Formigoni si è presentato nel carcere di Bollate per scontare la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione inflitta ieri sera dalla Corte di Cassazione nell'ambito del processo per il caso Maugeri San Raffaele. L'accusa per l'ex governatore della Lombardia alla guida della regione per 18 anni e di aver favorito questi ospedali in cambio di favori e beni. I giudici della Cassazione hanno ridotto la pena rispetto all'appello 7 anni e 6 mesi perché i capi di imputazione relative a San Raffaele sono prescritti ma nonostante lo sconto Formigoni 71enne non ha potuto evitare la detenzione per via della legge spazzacorrotti che non dà la possibilità di usufruire di benefici legati all'età come gli arresti domiciliari. Detenzione domiciliare comunque richiesta stamane dalla difesa di Formigoni. Per il procuratore generale della Cassazione da parte di Formigoni c'era stato un sistematico asservimento della funzione pubblica agli interessi della Maugeri, un baratto della funzione. La difesa aveva invece chiesto l'assoluzione o l'annullamento della condanna di secondo grado con rinvio alla Corte di Appello.